Ciao a tutti, bentornati, nuovo video di Affitti Brevi in 30 giorni, il nostro corso gratuito per capire se il mondo del business degli affitti brevi fa il caso vostro e darvi gli strumenti principali per iniziare ad entrare in questo mondo. Quest'oggi parliamo di gestione online, quindi il gestire sì degli immobili su Airbnb e Booking, ma non con la componente fisica, quindi non dovendoci occupare dei check-in, dei check-out, delle pulizie, che comunque non avremmo fatto noi e avremmo delegato, e tutto ciò che comporta appunto l'avere a che fare con l'immobile fisicamente, ma appunto di una gestione che riguarda solo ed esclusivamente gli annunci, quindi la parte strategica di pricing, rispondere alle richieste degli ospiti, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo da un presupposto, perché esiste la gestione online, ovvero chi è il proprietario che ci dà il suo immobile in gestione online? È un qualcuno che quasi sicuramente già ha un immobile sulle piattaforme, quindi fa già questo business, semplicemente non ha degli ottimi risultati, magari vive sopra, sotto, a fianco o nelle immediate vicinanze dell'immobile, quindi dice guarda me ne voglio occupare io di tutto quello che è l'accoglienza, piuttosto che già lo faccio, voglio continuare a farlo io perché mi piace, magari una persona anche in pensione che vede in questo tipo di attività un modo per svagarsi. Questo chiaramente comporta una provvigione più bassa al property manager, per forza di cose, perché ovviamente non si deve occupare di una serie di questioni, chiamiamole così. Dall'altra parte però ha un grandissimo vantaggio, ovvero voi una volta che arrivate alla pronotazione vi dimenticate completamente di quell'immobile. Oltre a questo un grande vantaggio è che chiaramente voi non dovete essere fisicamente dove si trova l'immobile. Esempio perfetto, io ho delle ville in gestione a Ibiza e a Ibiza non ci sono mai stato in vita mia e non ho neanche interesse nell'andarci ora come ora. Quindi riesco a gestire degli immobili addirittura in località dove non sono mai stato o dove potenzialmente è anche magari molto complicato andarci per via del luogo in cui vivo, perché magari dall'altra parte del mondo non ne varrebbe la pena. Quindi la gestione online non è un compromesso della serie vabbè dai mi accontento, in realtà è una grandissima opportunità. Anche perché abbiamo tantissimi studenti B&B Academy, a tal proposito vi ricordo che qua in descrizione avete ulteriori contenuti gratuiti di altissimo valore targati B&B Academy, tra cui una consulenza con il nostro team. E dicevo quindi che molti studenti B&B Academy si sono specializzati in questo tipo di attività, quindi la sola gestione online. Per chi lavora sia con gestione online che gestione fisica il mio consiglio è di suddividere il tutto in due profili diversi, perché comunque il check-in non è in mano a voi se la persona in loco fa qualche errore, magari vi arriva una recensione poco lusinghiera, perdere lo status di super host per una cosa del genere secondo me non ha senso. Quindi in generale vi consiglio se fate entrambe le cose di suddividere da una parte il profilo per le gestioni online e dall'altra tutte le altre tipologie di gestione. Quindi il grandissimo vantaggio abbiamo detto è essere quello di poter gestire immobili ovunque nel mondo, ovunque voi siate e ovunque siano questi immobili stessi. Ed è anche una grande opportunità perché magari è capitato che degli studenti fossero magari in delle località in Italia o all'estero, comunque dove non si sentivano particolarmente contenti di operare, io stesso ho dimostrato in realtà che poi si può guadagnare in qualsiasi città del mondo, però è ovvio che a Isernia in Molise non genere gli stessi incassi di una villa a Nizza o a Cannes o a Bogotà in Messico, cioè è ovvio che il potenziale è diverso. Quindi ci sta che una persona che magari vive in una determinata zona voglia avere l'opportunità di guadagnare tanto sfruttando la gestione online. Quindi da Isernia può gestire delle immobili a Miami Beach, può gestire delle case a New York, può gestire delle case a Tokyo, senza nessun tipo di limite. Parte della gestione online poi può anche, come dire, includere l'adeguamento di determinate cose che nell'immobile non vanno bene, quindi voi comunque in qualità di gestore online potete dire guarda, dobbiamo rifare le foto, piuttosto che guarda, dobbiamo sostituire il televisore con un televisore smart per comunque far aumentare l'incasso all'immobile. Così come se uno si è dimenticato di fare l'iscrizione al portale alloggiati web, cosa gravissima, ovviamente voi in qualità di gestore online, benché la responsabilità non sia vostra, è vostro interesse comunicare alla persona che ha fatto degli errori. Quindi, attenzione, gestione online è nel quotidiano gestire appunto la parte online, ma non significa non dover dare dei consigli o dei suggerimenti per tutto quello che riguarda in realtà poi la parte loco, perché se la parte loco viene fatta male comunque ne risentite anche voi, seppur siete dei semplici gestori online. Ma dunque perché una persona che ha già un immobile su Airbnb deve quindi affidarsi a noi? Perché non sta ottenendo risultati sperati. Magari ha anche un bel immobile, ma ha prezzi sparati a caso, minimo di notti, senza nessun tipo di senso logico, non utilizzano software come Badligo per fare la ricerca di mercato, e quindi hanno anche un potenziale gioiello tra le mani ma che non sanno valorizzare. E quindi non sono tanto loro che magari vengono a cercare noi, mi è capitato anche questo, ma siamo noi che andiamo a cercare loro, proponendoci appunto come potenziali gestori per la parte online dei loro annunci. E le provisioni in questo caso sono comunque buone, perché in norma si parla di un 10, 15, anche 20% nelle migliori ipotesi. Quindi comunque se a fine mese un immobile ha fatto magari 3.000 euro, io con un semplice 10% mi sto portando a casa 300 euro, che per carità di Dio non sono tantissimi, però se poi abbiamo 10 case così, in gestione online, che io posso gestire comodamente seduto dal divano di casa mia, sono 3.000 euro per lavorare da casa e gestire solo 10 case. Inutile dirvi che se poi diventano 100, magari ci mettete un anno e mezzo, due, ma a 100 case poi diventano 30.000 euro al mese seguendo questa media. Quindi il potenziale è veramente elevato. Ma in qualità di gestori online che cosa andremo a fare? Beh, andremo a ovviamente migliorare l'annuncio a 360 gradi, quindi il titolo, suggeriremo appunto eventualmente la realizzazione di nuove foto, andremo a migliorare la descrizione, a sistemare i filtri, ad anche ottimizzare l'annuncio, cioè se andiamo incontro all'estate, magari nel titolo menzioniamo l'aria condizionata, mentre d'inverno magari andiamo a far leva sul fatto che c'è il riscaldamento a pavimento. Quindi si tratta anche di andare a seguire delle piccole strategie di marketing come quelle che seguiamo all'interno di B&B Academy. Ovviamente oltre a tutto ciò dovete fare tutto quello che di norma fareste per una gestione completa, quindi poi anche alzare o abbassare i prezzi, controllare le date calde che possono essere presenti in quella determinata zona, rispondere ai messaggi degli ospiti, che può sembrare tanto ma in realtà è veramente pochissimo, perché sono cose che si fanno, diciamo, una volta alla settimana. Nel frattempo, per chi non lo sapesse, piccolo aneddoto, sto costruendo una palestra privata di fianco al mio ufficio, nella mia villa, e ovviamente hanno iniziato a trappanare, quindi spero che questi rumori di sottofondo non disturbino il video, ma devo terminarlo, se no poi perdo il filo del discorso. Un altro vantaggio della gestione solo online è che di norma ci andiamo a proporre a persone che già svolgono questo lavoro, quindi sanno già il potenziale del business, e dall'altra parte si spera che siano anche consapevoli del fatto che appunto il loro annuncio ha un grande margine di miglioramento, quindi potete fare delle simulazioni, delle proiezioni, delle ricerche di mercato con Badly Go, per far capire a loro qual è il potenziale del loro immobile, se si affidano a voi. È importante collegare questo aumento di fatturato al vostro expertise, al fatto che solo grazie a voi si possono fare questi 1000 euro in più al mese, non che l'immobile così, cambiando due foto, fa 1000 euro in più al mese, 1000 euro poi chiaramente è un esempio, devono essere ben consapevoli che solo grazie a voi che possono raggiungere questo incremento. Calcolate che nella mia esperienza pluriannale, e poi ovviamente l'ho visto anche attraverso tantissimi studenti B&B Academy, di norma una gestione professionale di un annuncio già esistente può anche raddoppiare o triplicare gli incassi, oltre che chiaramente aumentare anche il tasso di occupazione e in generale il valore dell'immobile un domani in caso di rivendita. E non sto parlando di rivoluzionare o ristrutturare l'immobile, ma di andare ad intervenire principalmente su quella che è la parte online. Ecco perché di fronte ad un potenziale raddoppio, o a un potenziale fatturato triplicato, il nostro host sarà ben felice di darci in gestione il suo immobile online, a patto di avere chiaramente tutte le competenze per fare ciò, che non possono essere acquisite in un video di YouTube di poche decine di minuti, ma che ovviamente spieghiamo all'interno di B&B Academy. E ancora una volta vi ricordo che qua in descrizione trovate tantissimi contenuti gratuiti. Ricordatevi che questa metodologia funziona per lo più con le persone magari più anziane, perché sono meno consapevoli delle opportunità che ci sono là fuori, magari hanno una formazione prossima allo zero e non vedono l'ora di sfarsi di determinate mansioni che magari al giorno d'oggi sono per loro pesanti. E siamo giunti al termine di questo video, spero che vi sia stato utile perché secondo me è un tema importantissimo. Ancora una volta trovate un sacco di contenuti qua in descrizione, iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel mi piace a questo video e fatemi sapere nei commenti se volete che io tratti dei temi specifici nei prossimi video. Un caro saluto da Ludovico Cianchetta Vasquez, fondatore di B&B Academy.